L'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Potenza di una mozione a sfavore della legge ZAN contro l'omotransfobia e la misoginia in discussione al Parlamento ha provocato la presa di posizione netta da parte dei consiglieri regionali Polese di Italia Viva e Pittella del PD. Per il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese, si è trattato di un atto vergognoso avvenuto a poche ore dalla tragedia di Caivano, dove una giovanissima donna è stata assassinata dal fratello perché amava un ragazzo trans. L'esponente di Italia Viva parla di deriva di odio e di strumentalizzazione politica. Non c'è più tempo da perdere, dice, le forze sane della nostra società hanno il dovere di mettere in campo tutto ciò che è possibile per frenare queste derive fecondatrici di odio. Il consigliere Pittella parla di un atto scellerato che non trova alcuna giustificazione ideologica che mostra l'avventata sfrontatezza di chi lo ha approvato. Assistiamo ormai da tempo, dice, all'abbandono del pensiero e alla totale perdita della responsabilità civile e politica di coloro che dovrebbero esercitare funzione di guida e di indirizzo della comunità. Auspico da Lucano, prima che da uomo delle istituzioni, conclude Pittella, che la maggioranza consigliare chieda scusa e si ravveda.